Buonasera a tutti, eccomi a piazza Garibaldi, siamo in preparazione alla festa di San Michele adesso ci accendiamo ad entrare in chiesa e adesso vi faccio vedere tutti i preparatori ecco qua e dopo esserci trattati della croce di colonna riprese nel monastero eccoci qui a San Michele parato contornato di osso e strato di giallo San Michele è sposto eccolo e facciamo un altro giretto il palio ovviamente con le piume strette la capanna normalmente senza le piume chissà perché le vogliono togliere e qui è tutto questo è un po' tutto scusate se non ho fatto video a San Magno per la croce di colonna che arrivava perché avevo una memoria piena scusate questa mazza che dire questo qua è tutto di oggi qua mi già ma di oggi Grazie.